Ma quanto brutta è la politica finalizzata a solo i voti al consenso? Fa schifo, fa schifo perché pur di prendere un voto in più attacchi tutto e tutti, soprattutto il governo, anche con dichiarazioni che sono semplicemente folle. Guardate qua, non lo nominiamo neanche oramai questo soggetto qua. Ha dato del criminale al governo per aver messo la gente in quarantena e aver disposto le chiusure. Ha dato del criminale al governo. E leggete invece un po' gli effetti di queste scelte da parte del governo. 600.000 vite umane. Questo è uno studio scientifico pubblicato sulla rivista internazionale Nature che dice che le misure del governo hanno salvato 600.000 italiani e noi ci dobbiamo sentire dire da sti soggetti che stanno sulle spiagge, alcolici, stanno solo in giro, non stanno mai lavorando negli uffici, che è stato criminale. No, non è criminale quel modo di informare le persone, quel modo di farle arrabbiare, e che fa di sentire divorosi contro chi invece sta lottando per aiutarle queste persone.